Comunicazione in politica che aumenta il fatturato della tua azienda. Oggi vediamo tre casi tutti italiani in cui i nostri politici hanno fatto un ottimo utilizzo della comunicazione online, davvero molto efficace. Analizziamoli assieme, cerchiamo di capire i pro e i contro di queste iniziative, ma soprattutto scopriamo cosa tu puoi imparare da questi casi, cosa puoi applicare nella tua azienda da subito per attivare una forte acquisizione di clienti da internet. Ma perché ti parlo di queste cose? Perché io sono Enrico Cecchini, il Sarto del Web. Il mio lavoro è aumentare il fatturato e velocizzare la crescita dell'impresa grazie al metodo comunicazione su misura. E questo è il canale dei Sarti del Web. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, ti do il benvenuto in questa nuova puntata del Sarto. Oggi parliamo di tre casi, tre iniziative politiche di comunicazione online che sono stati molto efficaci e da cui puoi imparare tantissimo per la tua azienda. Per chi non lo sapesse, io gestisco un'agenzia di comunicazione online. Noi realizziamo un prodotto chiave in mano a 360 gradi, quindi realizziamo la strategia, realizziamo i materiali che servono per applicarla nella realtà. Creiamo le campagne di comunicazione online su internet e sui social e poi le gestiamo settimanalmente per portare il risultato all'azienda nostra cliente. Quindi aumentare il fatturato, portare i clienti, portare i dipendenti, quello che serve per la velocizzare nella crescita. Su questo canale io parlo semplicemente di quelle che sono le opportunità che le imprese italiane possono avere su internet, sui social e tutto il resto. Quindi se ti piace l'argomento di cui stiamo parlando, metti mi piace, iscriviti al canale, cuoricino, pallina, tutto quello che piace tantissimo all'algoritmo e andiamo avanti con l'argomento di oggi. Nello specifico oggi rispondo a quattro domande e segnalazioni che sono arrivate al laboratorio, tutte legate da un filo conduttore. Parlano di politica, fanno riferimento al mondo politico. Certo, cercheremo di fare un discorso apolitico, diciamo, non tenderemo né da una parte né dall'altra, né a destra né a sinistra. E per poter capire meglio l'argomento di oggi facciamo quattro precisazioni, creiamo un po' di contesto. La prima è che la comunicazione in politica esiste da sempre. Da quando esiste l'umanità, da quando qualcuno ha detto io comando e voi obbeditemi, e altri hanno detto sì, perché ha fatto comunicazione politica. Quindi le prime testimonianze di questa riflessione su cosa è la comunicazione in politica ce l'abbiamo dalle antichi greci, Aristotele e Platone sopra tutto il resto, ma nei millenni, nei secoli, tutti i filosofi e gli intellettuali hanno riflettuto tantissimo sugli effetti della retorica sui cittadini, nella misura in cui il discorso politico può persuadere i membri di una comunità, fondamentalmente. E quindi ci si concentra su quali sono gli strumenti di conquista e di conservazione del consenso. Ok? Attraverso un discorso, attraverso una rappresentazione simbolica, non attraverso le armi. Quello non è comunicazione politica, quello è repressione. Qui stiamo parlando di chiacchiere, ma chiacchiere che hanno un grandissimo risultato, un grandissimo effetto. Sia in ambito laico, ok? Ottenere e proteggere quello che è un potere politico, sia in ambito religioso, perché il messaggio di fede va emanato, va fatto penetrare nella testa delle persone e poi va consolidato. Ok? Oggi parliamo di quello laico, di quello politico. Nei tempi moderni, ovviamente, man mano che è aumentata, che è avanzata la tecnologia, sono nati strumenti nuovi, molto più potenti. La comunicazione è diventata vastissima, veloce, rapida e sempre più efficace. Quindi i leader politici hanno capito che era necessario poter raggiungere immediatamente, nello spazio di un secondo, i propri elettori. Perché altrimenti spariscono. Perché lo fa la concorrenza? L'altro politico che assume quello strumento, ovviamente, non stando con le mani in mano, ti soffia quelli che sono gli elettori, che è la stessa cosa che succede a te. La tua concorrenza ha tutte le carte in mano, ok, per rubarti la clientela, è il motivo per cui il tuo fatturato non cresce quanto vorresti. Quindi, i politici, tornando al discorso della comunicazione in politica, hanno compreso che era necessario, fondamentalmente, essere perennemente in campagna elettorale. Quindi, dare conto dei propri programmi, dare conto delle proprie iniziative, dei propri risultati, eccetera, eccetera. E questo ha avuto un ruolo sempre più prominente nella comunità politica, sempre più importante. Siamo tutti noi la comunità politica, ok? Tutti gli elettori sono comunità politica, non ritenerti al di fuori. La scelta di votare o meno, poi, può essere intenzionale oppure no, ma quello è un altro discorso. Oggi, a dominare la scena, a dominare la comunicazione in politica, sono i social in ogni direzione. C'è un'opportunità di interazione fra cittadino e politico che non è mai esistita nella storia, ok? E quindi, di una fortissima visibilità a un costo molto, molto basso, ok? L'obiettivo del politico, lo sa perfettamente, è acquisire consenso e mantenerlo. Acquisirlo e mantenerlo. Ed è diventata un'ossessione, perché altrimenti il politico sparisce, ok? Quindi devi tornare a lavorare, fondamentalmente. Seconda precisazione. I politici sono molto più bravi, o comunque lo sono diventati, a utilizzare i social rispetto a te, ok? E l'hanno fatto per sopravvivenza. Che cosa intendo? Intendo che i social mettono a disposizione delle persone strumenti molto efficaci che i politici hanno imparato a utilizzare rapidamente in maniera molto, molto buona, fra virgolette. Per esempio, quello che può essere la copertina della pagina Facebook. Uno dice, chi se ne fega della copertina? No, no, quello è lo spazio in cui tu puoi dare dei messaggi. Per esempio, questa vecchia copertina di Giorgia Meloni, una persona che fino a poco tempo fa ha fatto parte dell'opposizione e oggi invece è al governo. Ma al tempo, qui ho tirato fuori una copertina del 2021, si preparavano alle amministrative di ottobre 2021, l'Italia del riscatto, c'è scritto sulla copertina della Meloni al tempo, era totalmente contro Draghi. Puoi far ridere perché quando è stata votata poi ha copiato pari pari l'agenda Draghi. Quindi era contro qualcosa che poi ha applicato. Ma questo è un altro discorso, è un altro discorso. Quindi copertina come strumento per comunicare qualcosa a chiunque passi dai tuoi social. Oppure vedo il profilo su Instagram di Carlo Calenda che utilizza quella che è la bio, cioè la descrizione piccola sotto al nome, per dire, intanto per dire, alcuni uomini cambiano un partito per amore, dei loro principi, altri i loro principi per il partito. Questa è una citazione di Churchill. Quindi Calenda per cosa utilizza la sua bio per giustificare il fatto che litiga con tutti. e per guidare l'utente a compiere un'azione, cioè cliccare sul suo sito, che poi si chiama azione, fa ridere. Però l'azione è qualcosa che è importantissima per aumentare il fatturato grazie a internet. Devi guidare le persone, il cliente potenziale, a fare qualcosa per te. Altrimenti non farà mai quel passetto che serve per comprare, per darti i suoi soldi. O ancora, quello che può essere allevare il proprio cliente, allevare il proprio votante. Salvini sa perfettamente che su TikTok non c'è il suo, tra virgolette, target, il suo cliente ideale, ma vuole coltivare un pubblico perché sa che se vuole durare per tanto, il cliente, il pubblico, va nutrito, va preparato, anche se non è ancora pronto, va comunque foraggiato con idee, con contenuti, e quindi ha aperto il suo profilo TikTok, Salvini, al tempo stato molto criticato per questo, perché dicevano tutti quanti non è lì il tuo cliente, ma Salvini se ne è sbattuto e oggi arriva a avere un milione di follower e 21.9 milioni di mi piace sul suo profilo TikTok, facendo cosa continuando a creare dei contenuti. Che cosa cerco di spiegarti con questo discorso? perché i politici spendono soldi in queste cose, spendono soldi in comunicazione e sui social, ok? Perché i social sono molto più influenti oggi degli altri strumenti media. C'è una ricerca del Guardian che è potentissima, dice 5 ore al giorno su Facebook, come il votante, l'elettore, sta tenendo il passo con le elezioni, come chi deve votarti si informa su chi votare ed è una ricerca fantastica perché alcune persone hanno consentito che fosse controllato il loro cellulare in ogni momento per vedere cosa stavano facendo, quindi hanno consentito a quella che è una ricerca molto invasiva e si è scoperto che la gente decide chi votare, decide dove portare la sua attenzione a chi credere in base alle notizie che guarda sui social, a quali social segue, eccetera, eccetera. Cioè, internet è diventata la realtà a cui le persone si piegano. Se non ci sei su internet, allora scompari dalla mente delle persone. Questa è la realtà di oggi, 2024, stai tranquillo, stai tranquillo, 2025, 26, 27, gli anni che seguiranno a questo contenuto che sto girando in questo momento, non è che le cose torneranno indietro, internet sarà sempre più importante per le persone per decidere cosa fare nella loro vita, dove andare in vacanza, cosa comprare con quei soldi che mi sono rimasti in mano, chi votare. Il politico sa tantissimo che quello che fai online modifica quello che succede nella realtà, che ha molto più impatto sulla vita reale e quindi spende i suoi soldi, il suo budget, online, sui social. Perfetto. Altra cosa molto importante, il potere odia i soldi, che è una cosa un po' strana, cerco di spiegartela. Da che mondo è mondo, nella grande maggioranza dei casi, se tu guardi una nazione, la sua capitale politica e la sua capitale amministrativa non sono mai nello stesso punto. Italia, capitale politica, Roma, capitale amministrativa, Milano. Germania, capitale politica, Berlino, capitale amministrativa economica, Francoforte, Spagna, Madrid politica, e Barcellona economica. C'è stato un piccolo cambio durante il Covid, ma probabilmente torneranno indietro. USA, capitale amministrativa Washington, capitale economica New York, altre sedi oltre a questo. Ma Washington venne creata da zero, a tavolino, per evitare che ci fossero dissidi con le famiglie già esistenti in quel luogo. Cosa significa? Significa che i soldi si sviluppano lontano da dove si sta sviluppando il potere. Perché il potere ha paura delle persone con i soldi, ha paura della loro influenza, perché sa perfettamente il potere che i soldi sono più importanti del potere. Cioè, da che mondo è che mondo è stato chi aveva i soldi a generare le rivoluzioni. I poveracci fanno le rivolte, le rivolte vengono soppresse nel sangue. Le rivoluzioni sono quelle che cambiano qualcosa, e da che mondo è che mondo e chi è i soldi che ha potuto influenzare la politica. Quindi, quando un governo si instaura, diventa, diciamo, senile, diventa più potente, ma anche vecchio, cerca sempre di soffocare l'economia, influenzarla in maniera che non diventi troppo ingombrante. Quindi Roma è grandissima, cosmopolita, piena di vita, piena di attività, ma il centro dell'economia italiana sta a Milano, sta in altri centri, non a Roma. Là dove ci sono persone, dove c'è commercio, dove c'è l'acqua, dove c'è il contatto con altre culture, c'è la Germania, c'è la Francia, eccetera, eccetera. Sono pochissimi i casi in cui questo non succede nel mondo, nel corso delle culture, e prova a pensare a cosa succede nelle società emergenti, o dove, per esempio, Pechino è una città enorme, con potenzialità enormi, inespresse, ma viene soffocata dalla paranoia del governo cinese, che sa perfettamente che crea un danno ai suoi cittadini. O pensa a Mosca, Mosca in Russia, dove i soldi scappano come ai topi quando la nave affonda. Cosa fanno gli oligarchi? La prima cosa che fanno è mettere i soldi in Occidente. Per questo è che le sanzioni quando congelano i soldi russi sono molto molto efficaci, perché chi ha i soldi russi li porta fuori. Perché? Perché ha paura che il potere si giri il cazzo e dica sai che c'è? Ora sti soldi sono miei. Perché può farlo il potere, no? Può fare un prelevo forzoso sui tuoi conti, può tranquillamente farlo. Anche in Italia è successo, figurati. Ok, questa è la terza precisazione. Il potere ha paura dei soldi, ha paura di chi è libero, chi è libera, chi ha un forte potere economico. Quarta precisazione, un pregio e difetto del discorso di oggi, che sarebbe il politico non ha bisogno di concretezza, non ha bisogno della concreta realizzazione di quello che sta dicendo. E questo è un difetto del discorso di oggi e che devono capire qual è il limite di quello che sta succedendo. Il politico, il suo obiettivo è acquisire il consenso e mantenerlo. È un mantra, è un qualcosa che non si può uscire da questo discorso. Acquisire il consenso e mantenerlo. Poi non deve veramente realizzare quello che ha promesso, invece l'azienda deve. Perché se l'azienda non mantiene quello che ha promesso, fallisce, ti fanno causa. ti vengono sotto casa, ti spaccano le gambe. Dopo un po', scontenti un cliente, ne scontenti dieci, ne scontenti mille, ti gambizzano. A un certo punto ti fanno fuori. Quindi questa è una cosa molto importante, ma sempre ricordarcelo. Però, il pregio è che anche tu, esattamente come il politico, devi avere un'ossessione a tirare clienti e mantenerli. Come il politico deve attirare votanti e mantenerli, tu devi attirare clienti e mantenerli. La comunicazione è il fulcro di questo. Perché le persone capiscono cosa vendi solo dopo averlo acquistato. Prima è impossibile, non ne hanno le competenze, quindi devi convincere a comprare prima che sappiano se è davvero buono quello che vendi oppure no. Devi creargli l'idea prima e dopo che hanno comprato allora ti puoi lavorare il cliente. Ma è una cosa totalmente diversa. Prima è solo comunicazione. La comunicazione è tutto per aumentare il tuo fatturato. Quindi, bando alle ciance e veniamo a questi casi politici che mi avete portato la mia attenzione. Alcuni dei quali mi hanno proprio sciunvolati sopra la testa. Non vennero minimamente accordo di queste cose. Allora, il primo parliamo di Matteo Salvini. Matteo Salvini che ha proposto la leva obbligatoria. Questa mi avete mandato in molti. Il primo è stato Gian Maria. Grazie Gian Maria per avermi mandato la notizia. Quindi, che cosa succede? Salvini, o comunque la Lega, ha depositato alla Camera una proposta di leva obbligatoria. Sei mesi fra i 18 e i 26 anni. Attirandosi le critiche di tutti. Dall'opposizione ai suoi stessi alleati del governo, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Tutti li è andato contro questa cosa. Ma adesso concentriamoci più sulla questione comunicativa. Deve sapere che questa notizia è di maggio 2024, quindi un paio di mesi fa, poca poca roba, ma non è nuovo a queste uscite. Salvini, basta fare una piccola ricerca, trovi notizie di agosto 2018, servizi militari. Salvini, valutare il ritorno educativo? Oppure, agosto 2022, tornando ancora, Salvini, insiste sul ritorno del servizio militare, è molto utile, lo dice solo lui. È molto utile, infatti, arrivano i suoi alleati che dicono non saprei. Comunque, la proposta è che cosa dice, poi vediamo qual è la situazione fattuale e poi perché in realtà è molto utile. Il testo che dice istituzione del servizio militare e civile universale fondamentalmente prevede una leva di sei mesi per ragazzi e ragazze fra 18 e 26 anni su base regionale possono scegliere comunque fra servizio civile e servizio militare. Quindi queste persone devono occuparsi di tutela del patrimonio culturale e naturale. Il leghista Eugenio Zoffili dice la Lega anche attraverso questa proposta guarda al futuro e al bene dei giovani dell'Italia con un semplice e concreto buonsenso. E poi arriva Tajani che non so se lo sai ma Tajani sarebbe il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale dice leva obbligatoria costosa e irrealizzabile non basta una divisa per essere un militare oppure Crosetto che sarebbe il ministro della difesa dice il servizio di leva obbligatoria in questo momento non è compatibile con il livello di professionalità che noi chiediamo alle forze armate e che chiederemo sempre in futuro ok quindi taglia corto e dice fondamentalmente non dite cazzate questo è proprio il punto di vista di qualcuno che ha a che fare con le forze di difesa quindi nella fattualità questa proposta della Lega di Salvini nello specifico è fuffa totale non è utile non è utile perché proviamo anche solo a immaginare al costo di prendere tutti i ragazzi italiani e metterli per sei mesi in una caserma addestrarli perché poi per cosa perché in sei mesi non fai il militare in sei mesi non succede niente è solo un grandissimo spreco di risorse e sono gli stessi alleati di Salvini a dirlo non io sono i dati ok è importantissimo che sia questa questa cosa ti sia chiara anche perché io non voglio collaborare con persone che mettono il proprio parere di fronte ai dati che non sono i dati che ci dicono se una cosa funziona oppure no e noi dobbiamo cambiare opinione in base ai dati punto questo è il modo in cui un imprenditore può fare davvero i soldi questo è il modo in cui va la realtà ok perché però ha ragione Salvini mi dici strano che non è questa cosa non utile ma in realtà Salvini ha ragione perché se vado a prendere un sondaggio del 2022 che dice lei è favorevole alla proposta di reintrodurre la leva militare obbligatoria in Italia abolita nel 2004 le favorevole 53.5% contrario 46.5% quindi leggermente sopra la media sopra la metà sono favorevole a leva militare in Italia ok se andiamo a spezzettare il risultato di questo sondaggio vediamo che i ragazzi fra i 15 e i 34 anni sono favorevoli il 28% sfavorevoli il 71,8% ok perfetto quindi la strana maggioranza dei ragazzi sono sfavorevoli a questa reintroduzione della leva militare ma se andiamo sui 55 più anni improvvisamente vediamo che si ribalta la situazione perché il 64% delle persone sono favorevoli alla reintroduzione della leva militare quindi Salvini non ne frega un cazzo di fare un qualcosa di reale sa perfettamente che con la proposta di legge verrà bocciata ma sta mandando un messaggio al suo elettorato alle persone con più di 55 anni che in Italia tra l'altro sono la maggioranza i giovani sono meno la maggioranza ha più di 55 anni ok stragrande maggioranza tra l'altro va a vedere i dati della demografia italiana quindi Salvini cosa sta facendo sta mandando un messaggio alle persone di cui vuole il voto sta dicendo qualcosa che chi vuole chi vuole attirare pensa ha proprio ragione Salvini che sia vero oppure no capisci che sia vero oppure no queste persone dicono quando vai la leva militare ci forma l'uomo che poi sia fattibile o non sia fattibile è un altro discorso ma sappiamo che la politica non ha bisogno della concretizzazione di quello che dice ok cerca di capirmi perfetto quindi cosa prima cosa cosa impariamo da questo episodio domanda tu lo sai cosa pensa il tuo cliente tu lo sai cosa pensa la persona che vuoi attirare nella tua azienda da cui vuoi i soldi perché quello che pensa il tuo cliente il tuo potenziale cliente il tuo cliente su misura quello che tu vuoi attirare è importantissimo perché se tu utilizzi i suoi termini i suoi desideri le sue aspettative o quello che odia nella tua comunicazione allora potrai creare veramente una comunicazione magnetica un tipo di messaggio che attira il tuo cliente è allontana gli altri è molto più della concorrenza che magari o non fa comunicazione o la fa generalista capisci perché non si applica non si basa non fa leva su quello che il tuo cliente che desideri vuole cioè se tu capisci i desideri del tuo cliente e le sue paure quello che odia quello che ama quello che vuole con tutte le sue forze quello che non gli dice niente di che anzi questi sono elementi importantissimi che ti fanno capire cosa inserire nella tua comunicazione cosa tenere fuori e poi lo devi fare con forza a dispetto di tutto il resto non ti devi fregare di nient'altro perché la comunicazione ha l'obiettivo di attirare persone nella tua azienda farle comprare dopo che hanno comprato capiranno se il tuo prodotto è davvero valevole oppure no prima è solo convincerli prima è solo creare un'opportunità di vendita grazie a delle promesse delle promesse che però devono essere forti specifiche mirate ormai sono tutti là fuori che dicono grande qualità e cura del cliente non puoi dire queste stronzate le dicono tutti le hanno dette tutti quindi se le dici sei solo un'ennesima voce nel coro che non avrà nessuna efficacia anzi ti confonderai ancora di più nel male della concorrenza diventerai la carta da parati so che questa cosa non è semplice non è facile ed è esattamente il lavoro di noi sarti del web quindi vai su sarti del web punto it slash tutor trovi il link in descrizione compiere il form e farai una chiacchierata di un'ora gratuita e senza impegno con uno dei miei tutor che ti spiegherà come si fa ad applicare questi concetti che ho già detto nella puntata ma che continuerò a dire nel tutto il resto del contenuto nella tua azienda per attirare davvero clienti paganti nella tua impresa molto bene passiamo al secondo caso parliamo di Giorgia Meloni Giorgia Meloni che ha fatto un piccolo patapum questa notizia ce la passa Alessia che mi chiede ma tutta la questione del redditometro è stata una mossa politica o un errore nello specifico di cosa stiamo parlando leggo la notizia nuove regole sul redditometro che hanno agitato il governo il ministero dell'economia ha approvato un decreto atteso da anni per regolare un vecchio strumento di controllo fiscale Lega e Forza Italia quindi gli alleati al governo si sono detti i contrari Meloni blocca tutto quindi che cosa è successo il redditometro è uno strumento che si occupa di capire se stai facendo nero se stai evadendo le tasse grazie a una serie di strumenti compreso anche guardare sui social cosa stai facendo e comunque si aggiungono delle voci di spesa che può anche essere la spesa alla copp cioè di genere alimentari vacanze macchine per capire se quello che stai dichiarando è veramente quello che stai guadagnando oppure no cosa che è molto comune purtroppo in Italia e in realtà sta cosa del redditometro va avanti da anni è stata bloccata nel 2018 grazie al decreto dignità tutta una serie di altre puttanate e quando hanno cercato di farla passare nella notte come i ladri sono stati scoperti dalla stampa e quindi poi opposizione e gli stessi alliati al governo no 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 noi questa cosa non ci piace non l'abbiamo mai detta cioè il governo ha approvato una cosa e poi ha detto non è vero spiegatemi chi è stato allora cioè qualcuno ha rubato qualcuno è arrivato ha fatto una cosa quindi licenziatelo dite stato lui no non è successo questo perché perché è una cosa che volevano fare tutti perché volevano farla tutti perché il governo ha bisogno di soldi ragazzi il governo ha bisogno di soldi non si può più creare denaro dal niente ok questa cosa che stava portando l'Italia a un passo dal fallimento è stata bloccata per grazia di Dio e quindi bisogna stare molto molto attenti a fare nero ai va delle tasse ragazzi non è più il paese di ben godi di una volta una volta potevi fare nero tutto il giorno oggi no oggi ti fanno due chiappe che non finiscono ti squartano in due fai molta attenzione non farlo se devo essere sincero non farlo ok perché porgi il fianco a un calvario che non finisce più organizzati per fare le cose a modo ok ne parlo anche in altre puntate ma qui mi fermo quindi se no non è stata una mossa è stato un errore Giorgia Giorgia Meloni possiamo dire è un presidente molto accorto che usa tanto tanto bene i social quindi se mi è subito messo a fare dei post a dire no io questo arreditometro non lo voglio non lo vorrò mai cos'è che ha detto nessun grande fratello fiscale sarà introdotto da questo governo sono sempre stata contraria a meccanismi invasivi applicati alla gente comune noi non vogliamo diciamo la grande evasione non si capisce bene quale sia questa grande evasione o la piccola evasione è sempre evasione lo dice il codice italiano la legge quindi vabbè lei fa distinzione tra questo e questo perché fa l'occhiolino al suo elettorato e dice no no andiamo a prendere da qualcun altro i soldi ma questa cosa non funziona ragazzi qualcuno prima o poi forse è un governo tecnico quando l'Italia sarà messa nei casini verrà fuori e metterà sto redditometro fuori e quindi poi noi siamo ci toccherà starci molto attenti ci sto già attento c'è che di starci attento anche tu anche capito cioè stiamo accorti quindi questa non è stata una buona mossa comunicativa invece è stata molto molto buona l'annuncio che Giorgio Meloni ha fatto al discorso durante il convegno a Pescara in cui si è espressa come capolista in tutte le coscrizioni per le europee ok lo slogan è stato chiamatemi Giorgia ok fondamentalmente ha reso un referendum quello che era il voto per le amministrative europee ok ed è stata una mossa da maestro estremamente populista che è un termine molto inflazionato che si sta utilizzando tantissimo ultimamente ma diciamo un tipo di comunicazione che è arrivata direttamente alla pancia di quelli che sono i suoi elettori ok che cosa vediamo in questa cioè nel dettaglio che cosa ha fatto ha detto perfetto per votare alle europee scrivete semplicemente Giorgia perché io sarò sempre una di voi sempre qualcuna a cui dare il tu quindi una dialettica che si oppone a quello che è l'elitalismo magari della sinistra che sono super mega intellettuali o si propongono in questo modo anche alcune parti della destra che stanno sparendo e si propone come donna del popolo ok donna che sta in mezzo alle persone comuni io sono vicino a te quindi tu vota a me perché devi fidarti di me io sono come te ok questo è un meccanismo fortissimo ok che aiuta a spostare l'attenzione dai risultati effettivi alla simpatia personale ok avvicina gli elettori a una figura personale e non istituzionale ok poi l'efficacia di questa cosa in termini di risultato è enorme ce l'ha insegnato lo stesso Berlusconi Berlusconi che fino a che era in vita era un caposaldo della destra ha tirato su di sesso la sua figura un sacco di attenzione e di simpatia ma anche di antipatia ma lui è bravissimo ha capito che non devi non devi piacere a tutti ok e fondamentalmente oggi che cosa succede dopo un anno dalla sua morte Silvio Berlusconi è stato ancora utilizzato da Forza Italia sempre nelle europee perché perché ha investito talmente tanto nella sua figura che tutt'oggi ha un grosso peso nell'immaginario delle persone vedevo l'altro giorno una ragazza su TikTok che condivideva questo video in cui trovava nella casa della nonna morta le carte da gioco di Silvio Berlusconi cioè quindi Berlusconi stampava le carte da gioco le dava i vecchietti per far penetrare ancora di più il messaggio positivo tra virgolette della sua figura nel suo elettorato ogni carta è lui che dice qualcosa quindi pensa a te che sembra quasi macchiettisti ma in realtà ha funzionato tantissimo tanto è che l'area europea ha avuto tantissime preferenze essendo morto è molto strano quindi votami per empatia e non per per merito effettivo diventa quasi una devozione non è più un qualcosa di razionale ma di irrazionale cosa impariamo da questa ottima iniziativa di comunicazione online trasforma te stesso in un brand in un marchio per incentivare la crescita della tua impresa i pregi e i difetti quello che ti rende buono buona e quello che ti rende cattivo che attiva tira fuori entrambi renditi il veicolo che attira l'attenzione nella tua impresa perché il cervello umano è fatto in questo modo si attiva molto meglio quando ha di fronte a sé una persona un volto che quando ha di fronte a sé un muro un edificio cos'è un'azienda è un qualcosa di troppo strato invece Gianni Gianni è Gianni quindi se utilizzato come elemento di una strategia di comunicazione online ben fatta la figura personale diventa potentissima perché è più facile da ricordare è più facile apprezzarla anche disprezzarla ma non devi spaventarti questa cosa lo vediamo meglio dopo so che è difficile quindi se vuoi realizzarlo nella tua impresa isarte.web.it slash tutor link in descrizione chiamata gratuita e ne parliamo a quattro occhi molto bene veniamo al quarto caso e ultimo della puntata di oggi e ora parliamo di Daniela Santanchè chi è Daniela Santanchè il ministro del turismo ok e nello specifico perché ne parlo questo è stato Simone a mandarmi il caso grazie Simone però mi era totalmente sfuggita questa cosa e fondamentalmente Cogne un paese in Val d'Aosta mi sembra sì per colpa di un disastro di un disastro naturale un'alluvione è stata isolata per un mese cosa orribile cioè fondamentalmente è una comunità turistica è un paese turistico quindi puoi capire che tutte le attività se il cliente se il turista non può andare in vacanza le attività devono licenziare devono mandare in casa di integrazione i dipendenti cioè è un disastro economico quindi cosa ha detto la Sant'Anche portiamo i turisti in elicottero e la chiamata mettiamo le ali Cogne mette le ali ok questa è l'idea della ministra del turismo per salvare la stagione turistica dopo le devastazioni dell'alluvione dello scorso weekend questo sto leggendo una notizia sto perdendo la concentrazione per quanto questa cosa mi faccia ridere perché mi fa molto ridere tu hai idea di quanto costi un giro in elicottero io sì perché ho visto i costi tempo addietro un'ora di elicottero può costare dai 1500 euro ai 5000 euro dipende dall'elicottero che stai prenotando un'ora un'ora di giro in elicottero quindi tu pensa a portare i turisti avanti e indietro per una location su in montagna ok pensa quanto può costare alle casse dello stato questa cosa poi ovviamente ci sono delle premesse devi stare almeno 4 giorni in albergo devi fare almeno questo almeno questo comunque sono puttanate sono puttanate perché questa cosa non è realizzabile non è economicamente affattibile ok non puoi mettere trasformare gli elicotteri in dei taxi e questa è una verità fattuale ok però di nuovo ha ragione Daniela Santanchè ha ragione lei ha ragione lei perché che cosa succede perché nessuno si aspetta di nuovo per il discorso che ti ha fatto nella premessa numero non mi ricordo 4 o 1 nessuno si aspetta che abbia effettivamente un'efficacia ok la sua iniziativa e il suo essere votata non è legato al risultato ma a una vicinanza di visione a una vicinanza di posizione ok quindi lei in questo momento a chi ha voluto mostrarsi vicina agli albergatori alle persone che hanno attività turistiche agli imprenditori ok che fanno quel lavoro che sarebbero stati danneggiati dall'alluvione che lo saranno totalmente fondamentalmente perché sarà un Cristo però lei vince perché si mostra accanto a loro ma ci sono tante le iniziative di questo tipo per esempio il ponte sullo stretto di Messina se tu dici voglio fare il ponte sullo stretto di Messina stai mando un messaggio ad alcune lobby ad alcune persone sono vicino a te ammicca ammicca votami e ti faccio dei favori ok fondamentalmente è questo quindi cosa assolutamente non fattibile però è un'ottima iniziativa di comunicazione che cosa impariamo da questo quarto e ultimo caso che non ti serve piacere a tutti non ti serve attirare milioni di clienti a te bastano poche tra virgolette persone perché faccio le virgolette perché questo poche dipende dal tipo di attività che fai cioè stiamo gestendo in questo momento un cliente che fa migliaia di vendite al giorno lui ha bisogno di migliaia di clienti al giorno ok tu non hai bisogno di migliaia di clienti al giorno o forse sì dipende da che tipo di azienda hai ok quindi a seconda di qual è la tua impresa tu hai bisogno di un numero determinato di acquisti ma non i milioni che immagini non i milioni in Italia siamo a 60 milioni non hai bisogno di 60 milioni italiani tu hai bisogno di una piccola percentuale di questi italiani esplodi se fai più di questa percentuale questa è la realtà dei fatti è la realtà dei dati e quindi devi comprendere in maniera molto importante e molto specifica chi è il cliente che vuoi attirare chi è la persona a cui devi piacere per avere un buon risultato economico con la tua impresa e te ne devi fregare di tutti gli altri se ti devi inimicare delle persone per renderti amiche amiche altre fallo fallo ma cosa cazzo stai aspettando non ti deve fregare un cazzo di quelle persone che non ti pagheranno mai e non saranno mai i tuoi clienti ideali cioè qui abbiamo visto Daniela Santanchè che fa questa abbiamo visto Giorgio Meloni abbiamo parlato di Civi Berlusconi di Matteo Salvini ma io ho una cliente a Padova Nadia di Pelo Perfetto che saluto bravissima perché si affida totalmente fa tutto quello che le diciamo sta avendo dei grandissimi risultati lei cosa ha fatto è lettatura per cani fa le sponsorizzate e sotto c'è la gente che dice è follia io non porterei mai il cane nella spa quelle persone vanno prese per il culo vanno prese per il culo vanno gestite in maniera da aumentare la visibilità della pagina e da creare una crociata verso ste persone ok perché ok sei contrario a quello che faccio vaffanculo anzi ti prendo per il culo così diverto il mio cliente ideale quello che invece è disposto a spendere centinaia di euro ok per far fare il bagno al cane che sia giusto che non sia giusto a me non me ne frega un cazzo non me ne frega un cazzo tu che lavoro fai vendi pannelli fotovoltaici fai impianti fai impianti idraulici tiri su case fai impiatti la pasta non me ne frega un cazzo ok l'importante è portare i clienti nella tua impresa poi sei tu con la tua attività che rendi felice il cliente io al massimo posso attirarlo creare l'opportunità di vendita creare un'aspettativa che poi deve essere vera perché noi non facciamo politica noi facciamo impresa vera ok usciamo dal discorso dalla politica e torniamo con entrambi i piedi nell'impresa tu crei la soluzione a un problema questo problema può essere che io mi sto annoiando quindi voglio passare il tempo che io voglio un tetto sulla testa voglio una macchina più bella voglio sentimi figo figa quindi voglio andare in palestra voglio comprare un vestito nuovo cioè possono essere milioni i motivi e non ne frega niente se quello che fai è che poi è difficile usare questo termine etico o non etico perché uno può dire facendo il discorso di Nadia non è etico portare il cane alla spa se ci sono bambini che stanno morendo di fame in Africa io ti posso rispondere vaffanculo non sto violando la legge hai soldi per sfamare i bambini in Africa vai stai facendo volontariato non mi sembra fammi vedere le ricevute fammi vedere i bonifici che hai fatto all'unicef ok quindi smettila di rompere il cazzo le persone possono spendere i soldi come gli pare ok andatevene a fanculo mi ricordo ancora quando mi sembra Cristiano Ronaldo stava male il cane il gatto mi ricordo e ha affittato un aereo per portarlo in una super clinica privata e l'hanno criticato per questa spesa andatevene a fanculo ok andatevene a fanculo ha guadagnato i suoi soldi in maniera onesta perché non mi sembra che abbia derubato qualcuno non ha rapinato un portavalori in autostrada ok quindi i suoi soldi sono stati guadagnati onestamente può spenderli onestamente come cazzo gli pare quindi che sia chiaro la comunicazione spinge forte la comunicazione attirerà persone che ti diranno cosa stai facendo quello che stai facendo non è giusto sarebbe meglio spendere i soldi in altro e tu devi rispondergli vaffanculo ma sto divagando questa è gestione delle haters e questa è gestione dell'oggi sui social magari ne parlerò in ogni altra puntata se vuoi che lo faccia scrivi un messaggio privato vai sui sarti dove appunto i titoli vi formi in fondo alla pagina io spero di aver esaurito il discorso di oggi di essermi spiegato in maniera comprensibile se non fosse così scrivono che magari farò un approfondimento inviatemi altre domande che la prossima puntata che facciamo sarà una quattro chiacchiere col sarto sto raccogliendo un po' di vostre osservazioni per tirar fuori una buona puntata detto questo detto tutto per oggi io sono Enrico Cecchini e ho fondato i sarti del web un'agenzia che si occupa di aumentare il fatturato dell'impresa grazie all'applicazione del metodo comunicazione su misura vuoi leggere qualcosa in più su di noi ci trovi sui sarti del web.it ma anche sul social che usi più spesso e sui maggiori canali di podcast detto questo ti auguro buona giornata buon lavoro e buona comunicazione online ciao buona giornata 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 buona giornata